Salve Robin, sono il dottor Wilson, il dottore di Fran, James. Era una tossina, l'abbiamo presa in tempo e guarirà perfettamente. Sì, infatti. Santa, pensavo che forse potrebbe passare a trovarla. Bel colpo. Grazie. Si complimenterebbe anche Aus. Ho i miei dubbi. Hai idea di come festeggiare? Allora? Voglio di più. Credevo che fossi un po' stanco per... Non parlavo di quello. Lo so. Speravo solo di offrirti l'occasione per cambiare discorso. Io voglio che sia più di quello che è. Eravamo d'accordo. Beh, all'inizio, ma non vorrei dirmi che adesso... Sì, invece. E non mi va. Era un gioco, nient'altro. Adesso è finito. E' iniziata. E' iniziata. E' iniziata. Sì, invece.